...risce seguire la tradizione tornando a casa per vita. Degli 8 milioni di italiani che si sono messi in via con le vacanze di Natale, circa 4 milioni hanno scelto di partire in treno, con un po' di acquisti dei biglietti su internet, e praticamente tutto esaurato sulle frecce di Trenitalia, mentre l'8% ha preferito l'aereo. Solo nello scalo di Fiumicino sono state più di 104.000 le partenze nella giornata di oggi, ma nella settimana di Natale ci saranno 122.000 canti dell'aeroporto di Palermo e 50.000 in quelli di Italia. Com'è? Prefetto il piccolissimo delle partenze. Stiamo portando le vacanze di Natale, è andato a nuca, la settimana è arrivata a casa in India. Dove andrate? Per quattro giorni? Per quattro anni? Per dieci giorni. Andiamo a Dubai, andiamo a mezzo di nozze. Poi facciamo Natale al caldo, andiamo a mezzo di nozze, quindi non si parla spazio fuori del resto. Disagio invece per chi ha scelto di spostarsi via mare, con molti collegamenti sospesi a causa del forte vento di Portana, che sta soffiando questa serie. Una situazione di maltempo che soffisce soprattutto nel sud Italia, con pioggia abbondanti nelle isole e nelle regioni tigretiche meridionali. Allertamento a partire da domani sera in campagna è per quanto forte possibili levicate. Inizio, la spazio è per quanto defida di morse in Grazie a tutti.